E voilà, eccoci qua, grandi invitici, allora ciao mi chiamo Alessandro, mi chiamo Enrico Marcucci, molto lieto, molto lieto, io ce lo guido la Vespa e remo la barca, allora Da dove vieni? Viterbo, chi ti ha portato qua con noi? Francesca, l'altro ragazzo, oh grande, ciao Alessandro, lui dice che lascia il fidanzato ma non è vero, ah oh, un favore, grande, imbarco, imbarchei, ci vediamo in aereo allora, preparati, sorridimi, fai tutto quello che vuoi, puoi mandare a quel paese tutto proprio Un sorriso, ragazzi, su, su, un sorriso, adesso vieni qua vicino a me, fammi un sorriso pure te, vai, no, te proprio, veramente, no Allora, mettiamo se sono d'accordo sul tuo primo ruolo Ma si vuole, lo sai quant'è, la mia bellezza, si che ne sta che ne sta Voglio bussiere, vai al gas Vai Vai, va bene, dai, ci vuole tante volte Dai, i piloti che stanno a fare, sto bene a guidare Senti come viene il gas Grazie a tutti 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 Non mi ha segnato un cazzo nessuno Stavo chiedendo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti